eccoci pronti per una nuova puntata del fatto di marcotti come sempre con le analisi degli avvenimenti economici e politici rilevanti naturalmente che vanno di pari passo lo facciamo sempre con giancarlo marcotti finanza in chiaro giancarlo ben trovato anche per questa settimana grazie manuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori allora andiamo a vedere subito chiedo alla regia di seguirmi un istante quali sono i punti che affronteremo in questa puntata naturalmente il tema dell'inflazione americana peraltro dato appena pubblicato e ora molto laconicamente mi verrebbe da dire così giancarlo ho lasciato in sospeso questa domanda della serie con le dovute riflessioni cerchiamo di capire un po cosa si aspetteranno i mercati e cosa ci aspettiamo anche noi dalla fed poi ancora oggi in modo doveroso dobbiamo fare un po un'analisi sulle elezioni regionali in lombardia in lazio direi che insomma al centrodestra conquistato a man bassa le due regioni la riconferma per l'ennesima volta in lombardia del centrodestra e la invece l'arrivo del centrodestra anche nel lazio e poi attenzione usa cina sui palloni spia anche di questo si sta parlando forse non eccessivamente ma cercheremo di capire anche quale impatto avrà questa tensione queste tensioni sui mercati se può averlo visto che l'america e la cina sono solo due nazioni lo sappiamo che hanno un potere particolare nello scacchiere internazionale allora giancarlo partiamo dall'inflazione americana iniziamo subito con il primo argomento è 6,4 per cento di fatto non è cambiato nulla rispetto alla precedente rilevazione del 6,5 se non che gli analisti hanno previsto un avevano previsto un ribasso più evidente c'è il 6,2 allora che idea ti sei fatto e soprattutto a questo punto quali potrebbero essere le prossime mosse della fed beh il dato potrebbe essere deludente io mi aspettavo che con un dato deludente le borse reagissero in una certa maniera invece ovviamente stiamo parlando dei futures sui sugli indici americani non stanno avendo al momento delle grosse variazioni per cui diciamo che è deludente ma non troppo o almeno è stato diciamo digerito dai mercati non è non è suonato come un campanello d'allarme però certamente nei giorni scorsi al di là delle previsioni come hai detto tu del 6,2 certamente nei giorni scorsi si parlava anzi si sperava in una diminuzione ulteriore cioè i mercati si erano mossi in una maniera che insomma facevano credere che questa inflazione dovesse non scomparire ma ridursi in maniera significativa invece oggi abbiamo visto che perlomeno per il mese scorso non è così certo esatto ma allora bisogna mettere in relazione però non solo le mosse della fed con questi dati sull'inflazione ma con questi dati sull'inflazione e la fotografia economica americana che sappiamo essere insomma comunque positiva non c'è stato un eccessivo rallentamento addirittura una recessione americana questo cosa significa se ci fosse stato paradossalmente lo sappiamo se ci fosse stato un rallentamento evidente dell'economia americana la fed probabilmente avrebbe fatto un piccolo passo indietro avrebbe detto ma si continuo con una politica monetaria un po più aggressiva ma stando attento attenta a non penalizzare troppo l'economia visto che e qui arrivo ovviamente e soprattutto con lo scenario in questo momento perché poi questo questo aspetto lo stiamo affrontando da tanto tempo visto che l'economia continua a reggere avremo altri dati questa settimana quindi potremo poi fare un'analisi più precisa l'inflazione scende ma non troppo appunto cosa farà la fed cioè l'anticipo è quello di allentare un attimino la presa però a questo punto potrebbe decidere potrebbe decidere di tornare a essere un po più falco ecco ed è la paura principale degli investitori no insomma senza girarci troppo intorno partiamo da questo da questo aspetto ovviamente non avendo a disposizione una sfera di cristallo no ma non do le mie previsioni do quelle di Goldman Sachs che io guardo sempre con una certa attenzione perché normalmente sono ben informati ma Goldman Sachs dice che mancano ancora un paio di rialzi di 25 centesimi quindi i tassi al 5 5 25 per cento e poi la fed resterebbe su questo tasso qua per diverso tempo comunque insomma diverso tempo vuol dire non pochi mesi ecco e questa secondo me è una doveva essere una pessima notizia perché insomma tassi così alti per diverso tempo dovrebbero spaventare il mercato invece anche queste previsioni di Goldman Sachs non hanno avuto l'effetto di spaventare i mercati io ribadisco sempre che se la crescita degli stati uniti dovesse così aggirare intorno al 2 per cento tassi intorno al 5 5 25 per cento è un gap non da poco quindi dovrebbe essere appunto qualche cosa che fa scendere i mercati tra l'altro mi trovo d'accordo come al solito come spesso succede con Andrea che insomma vede questi queste valutazioni attuali abbastanza generose in sulle borse poi stiamo a vedere però ecco questa è la previsione di Goldman Sachs ancora un paio di aumenti della Federal Reserve da 25 punti e poi si ferma lì in attesa che questa inflazione torni intorno al 2 per cento non so quanto tempo ci vorrà però questa io io riferisco Goldman Sachs certo 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 no no assolutamente sono previsioni che fanno gli analisti di Goldman Sachs che insomma comunque rappresentano una fonte accreditata non è che stiamo parlando di numeri che vengono dati a caso insomma questo sicuramente e invece senti per quanto riguarda è vero che adesso stiamo parlando dell'America e di quello che potrebbe succedere alla Fed ma hai visto in queste ultime ore anche dall'Europa sono arrivate notizie un po' confortanti su le previsioni economiche a partire dal PIL a partire dalla disoccupazione questo per l'Europa cosa potrebbe significare invece? In effetti vedo che il DAX continua a restare su livelli veramente molto elevati 15.400 punti insomma sono livelli il nostro Fuzzimib insomma ha avuto una performance dall'inizio dell'anno che è stata la migliore peraltro subito dopo il Fuzzimib il Nasdaq ma stanno correndo troppo i mercati a tuo parere? Beh allora io adesso non voglio sminuire l'Italia per la moda del cielo sono italiano e ci mancherà altro però quando parlo di Europa normalmente mi riferisco alla Germania perché è il mercato più più importante più pesante la locomotiva certo però è anche vero che il nostro PIL appunto ha stupito finora insomma abbiamo stiamo vedendo un 2023 molto migliore rispetto a quello che ci aspettavamo cioè davamo il 2023 prima certo la recessione doveva essere certa poi doveva essere probabile poi doveva essere possibile adesso invece sembra che sia difficile che di vedere questa recessione di conseguenza beh buone notizie eh stiamo non non è che che ci arrabbiamo perché non non abbiamo la recessione ci mancherà no 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 certo ci mancherebbe però ecco è solo per dire come queste previsioni in effetti di giorno in giorno sembrano essere smentite e quindi io temo che la la garda a questo punto appunto continui il 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 questo questa questa questo aumento dei tassi perché se non fa male all'economia insomma sappiamo che in Europa la l'inflazione è ancora più alta degli Stati Uniti quindi dobbiamo comunque combatterla ecco certo allora torneremo l'inflazione rimane sempre in pole position e il primo market mover perciò ci torneremo ma passiamo alle speciali regionali Lombardia e Lazio con il tuo commento Giancarlo Marcotti allora Attilio Fontana andiamo a vedere anche questo sito dell'ansa giusto per avere insomma sott'occhio le percentuali che gli sfidanti sia della Lombardia che del Lazio si sono aggiudicati fermo restando che ma questo analizziamo dopo c'è stata una stessa un astensionismo incredibile e l'avevamo anche un po' previsto allora regia per favore andiamo sul mio pc andiamo a vedere gli sfidanti della Lombardia appunto come hanno portato a casa il risultato Attilio Fontana leghista sostenuto dal centrodestra ovviamente attuale presidente di regione Lombardia è stato confermato alla presidenza con il 54,67 per cento dei voti l'equivalente di 1.774.477 preferenze questi sono dati definitivi lo sfidante del centrosinistra peraltro che era anche PD e Movimento 5 Stelle Pierfrancesco Maiorino si ferma al 33,93 per cento ecco io per esempio così ti lancio già degli input mi aspettavo un po' meno distanza tra i due andiamo a Letizia Moratti 9,87 per cento beh qui insomma mi sembra un po' non voglio essere impietosa ma un risultato poco poco brillante Letizia Moratti candidata civica per il terzo polo con 320.346 preferenze e poi abbiamo anche Mara Ghidorzi unione popolare con l'1,53 per cento delle preferenze anche su questo ti chiedo poi una cosa andiamo a vedere i candidati invece del Lazio vediamo se no così non me lo fa vedere adesso li prendo subito però partiamo prima dalla dalla Lombardia eccolo qua Lazio qua no li vediamo subito allora Alessio D'Amato centrosinistra 33,50 per cento di preferenze Francesco Rocca centrodestra vince ovviamente il nuovo governatore delle regionali Lazio scusate della regione Lazio 53,88 per cento Donatella Bianchi Movimento 5 Stelle che in questo caso correva da solo 10,76 per cento e appunto basta così e questi sono i risultati allora sulla Lombardia partiamo da qui te l'aspettavi domanda numero uno ti aspettavi questa distanza con il centrosinistra ti aspettavi questa debacle di Letizia Moratti e poi ultimo aspetto la quarta candidata ha riportato veramente un risultato insomma 1,53 vale la pena sfidare altri candidati quando insomma poi si ottengono questi numeri Giancarlo allora dunque diciamo che non mi ha sorpreso il risultato anche perché i sondaggi erano nettamente a favore di Fontana quindi era era difficile che l'esito sarebbe stato diverso in più non c'è il ballottaggio di conseguenza anche avesse vinto di di zero virgola avrebbe comunque insomma sarebbe comunque rimasto nel pirellone nel palazzo della regione e certo il distacco è enorme però ripeto non mi è sembrato proprio una grande sorpresa io penso che abbia giocato soprattutto il fatto che sia a Milano che a Roma il centrosinistra si è diviso si è diviso in maniera differente cioè a Milano è il terzo polo che si è staccato a Roma invece sono i 5 stelle che si sono staccati ma con quella decisione in pratica avevano già dato la le due regioni al centrodestra io tra l'altro giustifico anche in questa maniera anche per questo motivo questa grande astensione cioè prima di andare a votare sia i milanesi io dico i milanesi dovrei dire i lombardi ecco il sei lombardi che i laziali dovevano cioè sapevano già quale sarebbe stato l'esito e quindi magari molti non sono andati a votare perché sapevano che non c'era partita insomma e così è stato poi alla fine certo certo gioco che entrambi i candidati non hanno lasciato dubbi sulla loro vittoria già dalle prime proiezioni insomma quindi non è stata una sorpresa e poi appunto ancora l'astensionismo a in lombardia ha votato solo il 40 per cento degli elettori il 41,67 e solo il 37 per cento invece si è presentato ai seggi nel lazio punta massima roma con il 33,11 per cento ma il dato è sconfortante se si pensa che le principali alle precedenti regionali scusate del 2018 nella capitale andò alle urne il 63,11 per cento ma insomma continua allora intanto un'altra con un altro aspetto questo rafforza il governo insomma di centrodestra il governo meloni come quanto in questo contesto anche considerando però che appunto le persone hanno preferito non votare perché di questo si trattano è più favorevole al governo che non all'opposizione perdonami se dico una banalità ma insomma è la verità dei fatti è chiaro che un esito del genere seppur scontato ma permette al governo di dire vedete che gli elettori ci hanno premiato anche questi primi cento giorni sono stati appunto visti con favore dalle popolazioni perlomeno di Lombardia e Lazio che comunque Lombardia e Lazio messe assieme fanno io direi più di un quarto della popolazione italiana e quindi 16,32,64 è certamente più di un quarto della popolazione italiana quindi non è poi dopo siano andati a votare in pochi va bene ma diciamo che è un era un test attendibile anche anche se vogliamo un po' per il governo e obiettivamente ha sorreso al centrodestra adesso è vero che il centrosinistra in questo momento è nel nel momento di di maggior difficoltà non il PD non ha neanche un segretario il Movimento 5 Stelle cerca di smarcarsi per prendere un po' più di voti e insomma era era un centrosinistra un po' indisfatta in disfacimento non lo so si non c'era appunto come detto tu innanzitutto il il punto di riferimento e la guida perché poi eh oltretutto i candidati che si sfidano proprio alla segreteria del Partito Democratico hanno delle visioni differenti no quindi evidentemente a parte lo zoccolo duro degli elettori del PD eh ci si sta chiedendo probabilmente che 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 strada prenderà il nuovo Partito Democratico che poi non sarà il nuovo Partito Democratico ma indubbiamente avrà una nuova guida quindi qualcosa cambierà. Sì eh allora il Partito Democratico più di andare a cercare i voti dagli altri partiti voglio dire deve andare a cercare i voti nell'astensionismo perché chiaramente lì sono andati a finire molti voti del Partito Democratico diciamo persone che si sono sentite un po' tradite o comunque insomma che non hanno apprezzato le le ultime scelte quindi questo vale un po' per tutti naturalmente adesso per la verità se vogliamo escluso Fratelli d'Italia che continua insomma in questa marcia trionfale però arriveranno tempi difficili anche per Fratelli d'Italia come sono arrivati per la Lega per il Movimento 5 Stelle. Sì sì è fisiologico è fisiologico allora Giancarlo possiamo solo accennare l'altro argomento magari ce lo riprenderemo nella prossima puntata la tensione America-Cina sui palloni spia mi piacerebbe capire cosa ne pensi e soprattutto se possono se questa tensione potrà impattare sui mercati indipendentemente adesso vedremo cosa succederà insomma quale impatto potrà avere sui mercati. Ma guarda Manuela sono velocissimo io ho un amico insomma una persona che conosco che abita a Sacramento quindi in California e con il quale sono sempre in contatto mettiamola così la mail che ho ricevuto stamattina mi dice guarda Giancarlo qua non si parla d'altro che di questo quindi ecco dico solo questo è una è una cosa che è partita che sembrava una barzelletta e insomma speriamo che rimanga una barzelletta ma temo che non sia una cosa del genere che bisogna prenderla in maniera seria perché adesso veniamo a sapere che sti palloni che che girano o altre cose che girano a 12 mila metri a 40 mila piedi come dicono gli americani e non si capisce bene che cosa siano e cioè non si capisce bene è chiaro che non sono qualche cosa che è arrivato lì per caso e la stessa cosa lo dicono i cinesi dicono ma con tutte le cose che mandano sul nostro territorio gli americani insomma quando comincia a esserci questo ping pong tra due paesi come la Cina e gli Stati Uniti che insomma sono due grandi potenze io direi che se se ci ridevamo su all'inizio adesso forse è venuto il momento di non riderci troppo eh no assolutamente no però ci torneremo magari ovviamente sperando che come hai detto tu si confermi una barzelletta a quel punto non ci sarà neanche più bisogno di parlarne se così non fosse ovviamente ci mettiamo l'appunto Giancarlo e ne parleremo insomma allora Giancarlo Marcotti grazie noi ti seguiamo sui tuoi video su finanze in chiaro con tutti i temi centrali insomma che poi estrapoliamo e portiamo anche qui sulle fonti tv nel fatto di Marcotti ci risentiamo la prossima settimana grazie per la collaborazione grazie a te Emanuela come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori grazie a te Emanuela come di consueto